uno dei più grandi misteri nell'universo delle case vacanza è come funzionano i pagamenti di booking non è ancora stata scoperta la legge fisica che regola l'applicazione se voi aprite un account in booking potreste essere online tra due giorni con booking in cassa per conto vostro come potreste altrimenti trovarvi in un tunnel che dura due mesi con booking che vi dice devi tu incassare la carta di credito prenditi un post e poi quando il cliente prenota prendi i soldi o la caparra o fai una preautorizzazione oppure come è successo a noi sentirvi dire che d'ora in poi non va più bene incassare il 30 per cento e il 70 all'arrivo ma tutto il 100 per cento deve essere incassato all'inizio avendo in mano anche altri account dove invece questa cosa del 30 per cento è rimasta tranquillamente intoccata non c'è una regola nessuno può dirvi come funzionerà il vostro booking è un'esperienza molto intima e personale l'unico modo è aprire un account e iniziare questo cammino spirituale insieme a loro sperando che si risolva bene di base le opzioni sono più o meno queste 1 in cassa per conto vostro e quindi poi vi rilascia i soldi 2 incassate voi con la carta di credito e nel mezzo un'infinita serie di universi paralleli dove i parametri sono quanta percentuale del totale incassare prima quanto tempo prima per mettere una cancellazione eccetera eccetera si può incassare un deposito in booking se avete la gestione carte di credito lo potete fare semplicemente andando a preautorizzare la carta di credito un po prima che i clienti arrivi non entro in dettaglio perché è complicato le preautorizzazioni durano un tot e dovete farlo in modo che quando il cliente arriva anzi quando il cliente se ne va sia ancora in piedi se no in caso di danni non avete nulla ma perché è così complicato non c'è una politica unica allora io credo che booking stia facendo una serie di test quelli che si chiamano a b testing e abbia deciso per esempio mi sto inventando che il 10 per cento dei proprietari di quella città o forse addirittura di quella zona avrà l'incasso da parte di booking e poi andrà a confrontare con un altro campione 10 per cento di appartamenti più o meno simili e vede cosa converte meglio per cui dipende un po in che gruppo capiti potrebbe essere una teoria plausibile ma è solo una teoria ora dimenticate tutto quello che vi ho detto perché è un po come il life coach vi insegna delle regole su come diventare felici ma poi è molto personale l'applicazione di queste regole ok io sto condividendo la mia esperienza con booking con la gestione di vari account che comunque sono molto pochi rispetto al totale quindi l'esperienza vostra sarà comunque diversa ok la regola da ricordarsi è semplicemente aprire un account provare e vedere cosa succede